buonasera a tutti e buonasera tullio cioè di cui buonasera poi dipende se la manderai dal vivo di sera di mattina notte fonda cito la manderemo penso domani mattina se tutto quanto andrà come dovrebbe andare quindi buonasera poco azzeccatissimo sì l'abbiamo abbiamo azzeccata con la torre entrambi ma è l'età di entrambi ci siamo già detti che siamo coetanei allora in realtà lo conoscete tutti quanti lui e gianluca bocci è sicuramente un personaggio pubblico amato da tanti e anche da me e adesso stasera scoprire stamattina e stasera adesso scopriremo anche il perché perché gianluca non è soltanto una persona non è soltanto un fotografo è una persona a cui io sono legato da tanti 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 anni perché in realtà con lui condividiamo tante passioni no anche se questa è la prima volta che noi ci scambiamo due chiacchiere prima di tutto lui è un musicista e così come io sono picchio tamburi io picchio tamburi e io sfregio le chitarre e quindi questa cosa sicuramente ci accomuna poi ho scoperto in un suo video perché lui è una è un content creator molto molto conosciuto che è anche un appassionato di motociclette come me esista tra l'altro per essere precisi ecco ma io no nel senso che io oro le guzzi e soprattutto diciamo le custom di guzzi però sono sono sempre stato più amante delle giapponesi diciamo diciamo così e anche se è arrivata l'età per me di farmi un array quando insomma riuscirò a permettermela no una di quelle cose che quando potevo comprarmela non me la sono mai comprata perché dicevo non è ancora arrivato il momento e adesso è arrivato il momento tu non so se questa cosa puoi essere d'accordo quando arrivi il momento anche per andare in motocicletta in maniera differente io sono sempre andato sulla stessa moto perché era il mio sogno da ragazzo ci ho fatto di tutto anche la follia di andare in pista con guzzi california e ti assicuro che le ninja quando vedevano in curva dicevano ma chi è quel pazzo lì davanti poi vabbè su rettilineo mi salutavano le vedevo una macchia verde scomparire nell'infinito ok allora iniziamo subito a farci questa bella chiacchierata prima di tutto Gianluca Bocci Gianluca Bocci non è propriamente uno sprovveduto insomma è uno che di fotografia ne mastica tanta è arrivato a parlare di fotografia su youtube dopo aver scritto tanto di fotografia e anche per delle riviste autorevoli ti chiedo prima di tutto perché hai lasciato la carta scritta per il canale youtube oppure per la content creation così volgarmente chiamata se c'è stato un motivo se l'hai fatto per scelta perché volevi dedicarti alla fotografia in maniera differente oppure perché volevi coinvolgere in maniera differente allora ci stanno due ragioni una fisiologica nel senso che non l'ho scelto io ma è successo nel senso che ho iniziato a scrivere di fotografia nel 2011 e è stato il momento della parabola discendente della carta stampata ovvero le riviste 2011 12 13 sono sempre più andate in difficoltà e purtroppo ho visto tante testate per cui ho scritto che sono andate a chiudere scomparire e fallire e via dicendo quindi è stato un passaggio una parte fisiologico dall'altra c'è stata una parte invece molto gratificante di essere su youtube e ho iniziato a fare video per il blog quindi è una cosa che è nata proprio comunque su web però in quel momento non avevo grandi feedback perché tu mettevi il video come l'articolo online e nessuno ti si considera che non mettevo il volto quando ho fatto i miei primi video su youtube è successo che sono arrivati i commenti e commenti sono belli perché i commenti sono persone che reagiscono ai tuoi contenuti e in un certo senso una piccola droga c'è diventa una cosa che ti gratifica ti spinge ti da spunti molti miei video sono nati in base idee che persone mi hanno dato nei commenti ti fa capire quanto sbagli perché ci stanno amare critiche inutili ma anche critiche invece ci stanno dire a cacchio è vero ho detto una cosa sbagliata e la volta dopo dici meglio e quindi diventa tutto più gratificante prima quando tu scrivi per carta stampata se andava bene massimo era il tuo redattore ti diceva bravo c'è luca un buon lavoro stop finito lì adesso quando fai un bel video ti trovi magari quei 300 400 commenti ma video 20 grandi successo e è bello tullio è bello sì capisco capisco perché ancora ovviamente non ho i tuoi numeri e non so mai se ci arriveremo a quei numeri come f4 però in assoluto mi rendo conto che alcuni messaggi sono veramente molto molto gratificanti e bello io ti ho fatto questa domanda perché in realtà ce n'è una più intima che ti vorrei fare e cioè ma ti piacerebbe ancora scrivere su qualche rivista onestamente sì una delle ragioni per cui due anni fa ho fatto il mio libro piccolo momento pubblicitario sai perché le tue foto fanno schifo perché volevo scrivere in un certo senso sono un po in crisi restinenza passami una metafora da scrivere su carta stampata sì mi manca un bel po però le riviste scomparendo quindi non so se posso farci una proposta indecente così diciamola in diretta perché tanto questo video per così come è nato lo buttiamo direttamente su youtube non ci sarà niente penso da 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 aggiustare non so se tu sai ma io come f4 oltre aver fondato questa community e poi ne parleremo un po ho fondato anche una fanzine io la chiamo fanzine perché come te vengo fuori dalla musica dei garage e nei garage le fanzine musicali era un modo forse l'unico modo che c'era insomma negli anni negli anni 80 anni 90 per pubblicizzarsi un po nella prima nella propria città e poi anche un pochettino fuori no e questo questo bagaglio me lo sono portato adesso dietro nella fotografia e ho fondato questa fanzine che si chiama street 2 e una fanzine che è nata a maggio con il numero zero come le vere e proprie fanzine cioè auto prodotta con prevalentemente fatta d'immagine qualche spot all'interno qualche slogan man mano è cresciuta perché in realtà la mia idea che quella poi di questo canale è quello di diffondere oltre che fotografia anche un po di cultura e quindi abbiamo cominciato ho iniziato a scriverci adesso la fanzine è prodotta da una casa editrice che ne diresti ogni tanto di regalarci qualche tuo articolo a me farebbe veramente mi riempirebbe il cuore oltre che essere onorato e sono convinto tra l'altro del motivo per cui ti ho invitato che sarà di spunto di riflessione oltre che di grande interesse per tutti quanti i lettori della nostra fanzine che devo dire la verità stanno crescendo a riprova insomma che forse è un prodotto che per quanto sia la carta stampata un po' una super nicchia è una super nicchia però parlando anche di fotografie tu sei uno di quelli che ci insegna che vederle stampate tutt'altra storia un'altra storia e quindi la mia idea è proprio questa inserire e fare una rivista di cultura dove ci sia sia degli articoli molto interessanti e anche le fotografie di tutti quanti i membri della community guarda sarebbe una cosa veramente mi riempirebbe mi farebbe veramente felice te l'ho buttata lì così non sapevi niente forse non sapete nemmeno la fanzine onestamente no ma adesso lo so ti manderò anche se vuoi qualche le copie delle fanzine anzi ne sarei ne sono lieto te le manderò le vedrai e se il prodotto sarà per te interessante veramente il tuo spazio sappi che ce l'hai ok e così penso che abbiamo rotto il ghiaccio l'abbiamo tritato per caldo ok allora domanda a bomba così non ammorbiamo tutti quanti i nostri spettatori c'è stata un'esperienza o un'immagine che in realtà ti ha scatenato proprio la passione per la fotografia prima che diventasse un lavoro allora questa è simpatica allora io da sempre sono appassionato di ritrattistica ovvero all'inizio come tutti fotografavo la qualunque quindi del gattino al tramonto per poi capire che però fotografare il gattino al tramonto non mi emozionava mentre avere le persone davanti o questa insomma a me piacciono le persone qui dicevo appunto la gratifica dei commenti sotto i video gratifica conoscere persone su youtube tipo te o tanti altri lo stesso mi gratifica quando ho una persona davanti quindi il ritratto è un atto che a me gratifica e all'inizio mi ispirava ovviamente ai classici tipo steen mccary anche se dopo ho scoperto che mare non era proprio l'esempio più grande un po mi è crollato se sapevi varie storie anche recenti di persone con la terza gamba non è un doppio senso ma davvero è stata ritoccata male una persona su sfondo torino oppure andare a vedere la mostra che ha fatto dei suoi lavori fatti per la regione per perugia lavori tristi cioè proprio commerciali quindi mi è un po' crollato si bellissima ragazza africana bellissime le sue foto fatte in varie situazioni però mi è un po' crollato e poi appassionandomi altri tipo anni levo vizze molto fotografi rock o anche karsh che invece un fotografo istituzionale quindi di solito le cose che mi hanno spinto a crescere un fotografo sono l'esempio di altri so che è banale direanno tutti a vabbè la solita solfa però sì posso dire che amari nel tempo come anche giusto i miei gusti sono cambiati però a distanza di non sono un vecchio fotografo iniziato a fotografare nel 2002 posso metterlo proprio come l'anno preciso quindi sono 21 anni che fotografo quindi non sono così esteso e però in questi 21 anni l'unica cosa che non è cambiata per me è la passione per il ritratto ok e a questo punto visto che parliamo di ritratto ma tu non hai fatto solo questo e poi arriveremo a quello che il tema principale diciamo di questo di questo canale di questa community no ma sei un batterista sì sei un motociclista sì non ti conosco esattamente come persona ma qualcosa mi dice immagino che tu sia una persona istintiva parte che la parola istintiva una parola difficile che c'è da capire dove l'istinto della persona poi solito l'istinto una cosa guidata ovvero qualunque persona ha un istinto nel senso a un preresso che lo spinge a fare determinato tipo di azioni non esiste l'istinto l'istinto basilare invece chi istintensamente ce lo stono e sto divagando comunque non l'istinto così animale cioè buttato la non l'istintiva è solito a un pre resto dice io quella cosa la faccio così perché questo è il mio istinto la minatura in quel senso sì per esempio sono una persona anche ansiosa anzi parecchio ansiosa e sono molto pignolo cioè di solito chi lavora con me sa che organizzato con il concorso di fotografia controllo ogni singolo aspetto ed è il mio modo anche di lavorare cioè in tutto quello che faccio articoli fotografia il mio lavoro io sono informatico quindi mi occupo di fare assistenza informatica sono preciso mi piacciono le cose fatte bene quindi istintivo nel senso che faccio le cose di scatto di impulso no istinto nel senso guidato da quello che è il mio carattere la mia natura si la mia natura è questa io cerco di fare le cose fatte bene al meglio delle mie possibilità e allora ti riformulo meglio la domanda perché probabilmente l'ho fatta male quando parlavo proprio di istinto intendevo dire il tuo istinto rock no perché poi essere rock è un po è un modo di vivere oltre che un modo di essere no ecco perché parlo molto di istinto parlo di alcune volte di imprevedibilità nei curriculum è una skill che viene chiamata problem solving è un modo diverso insomma di di affrontarle le cose no e quindi io mi chiedevo ma questa tua questa tua indole rock perché se sei motociclista e sei batterista non puoi non avere quest'indole rock anche perché fatto un concorso ad hoc scusate il gioco di parole mi chiedo come riesci a bilanciare quest'indole rock diciamo così istintiva come la io e la tecnica nelle fotografie ma in teoria ok che stiamo cambiando direttamente allora essere rock vuol dire non rispettare le regole e nella fotografia dovrebbe essere la normalità non rispettare le regole ma soprattutto dimenticarle le regole per me è importante quando uno impara ma dovrebbe essere l'inizio mi dico sempre molti tendono a trasmettere l'idea a ti insegno i segreti della fotografia i cinque segreti fondamentali per fare le foto per me sono passami il termine delle stronzate nel senso che la tecnica sono tre stronzate c'è tempi di frame sensibilità finito sì poi ci stanno mille cose sull'inquadratura su come bilanciare comporre scomporre raccontare per immagini dicendo però sono cose che come quando tu ti insegnano a guidare la macchina ti dicono è importante quello l'acceleratore quello il freno con la frizione fondamentale se no ammazzi le persone o distruggi l'automobile però sono cose che tu impari e poi quando guidi non sta a pensare ogni volta adesso che faccio premo acceleratore alla frizione oppure il freno no le azioni basta quindi qualsiasi fotografo in realtà lo strumento importante io lo so che parlo troppo sul mio canale degli strumenti però sono anche un nerd quindi per me gratificante per fare uno spoiler ho realizzato un'ottica macro basata praticamente su un'ottica da microscopio buttata via e una cosa stampata in 3d io con queste cose mi ci diverto fa parte del mio essere giocoso io sono forse più rock che giocoso che sono aspetti differenti però nella fotografia uno dovrebbe essere sempre forse di un discorso istintivo cioè capire la bravura del fotografo soprattutto la sensibilità capire sta succedendo davanti a me qualcosa di particolare e quel punto faccio la foto ovvio io devo sapere usare al meglio il mio strumento la macchina fotografica però è tutto lì la macchina fotografica se è buona e se lo so sare bene vuol dire qualcosa che scompare non riesceci niente tra me e il soggetto importantissimo ritratto molti fotografi del passato utilizzavano il banco ottico e si mettevano accanto al banco ottico perché continuavano a parlare con il soggetto magari che poi era anchiodato su una x per terra le ragioni tecniche banco ottico ma continuavano a parlare non si nascondevano il volto di una macchina anche molto romanticismo di alcuni fotografi che utilizzano ancora la biottica proprio per quella comunque io ce l'ho bassa altezza della pancia alzo e continua a guardare il soggetto quindi questa è la cosa se forse non so se ti ho interpretato l'istintività della fotografia è questa cioè fare in modo che comunque io penso al soggetto al paesaggio a quello che mi sta succedendo avanti all'architettura qualsiasi cosa sia il mio genere e me ne frego di tutto il resto perché tecnica e attrezzatura ci devono essere sono importanti aiutano è innegabile dire che una macchina fotografica nuova è più semplice di una di cento anni fa ma non è quello il punto guarda risposto perfettamente nel senso come pensavo che tu rispondessi alla mia domanda era pretenziosa proprio per questo motivo no ecco perché ti avevo fatto il preambolo dell'istinto o comunque dell'indole rock perché come te penso proprio che la tecnica di base sia assolutamente fondamentale ma come te penso che per tecnica fondamentale intendiamo tempi e diaframmi e poi però dobbiamo lasciarci colpire da quello che abbiamo intorno che comunque vogliamo vogliamo fotografare ed è lì che l'istinto la tecnica è una di quelle cose ecco che te la metti in tasca è un bagaglio fa parte del background che abbiamo ognuno di noi no e poi man mano che continuiamo a fotografare nel nostro caso ovviamente impareremo sempre di più e proprio come fatto tu l'esempio dell'auto è un'analogia perfetta man mano ci permettiamo anche il lusso di diventare potenziali assassini in strada no col cellulare facciamo una cosa poi eccetera proprio perché quello ormai è un bagaglio un background che abbiamo già messo dentro e volevo però che questa cosa siccome io mi faccio portavoce di questa teoria che penso che sia l'unica valida perché vado contro io li chiamo segreti di pulcinella i misteri di fatima no i cinque segreti per scattare le migliori fotografie sono anche mezzo centri di comunicazione cioè quelli che fanno i video e cioè devi fare i video sui cinque quando lavoravo per retestate mi dicevano devi fare l'articolo la serie di cinque cinque cosa quello che vuoi tu ok giallù me la permetti una cosa cruda proprio cruda il problema non è che che è un mezzuccio di marketing perché quello ci sta ormai viviamo anche col marketing e anche senza volerlo e senza saperlo tutti noi facciamo marketing quando magari vogliamo corteggiare una donna no eccetera la realtà è sì sì ma lo fanno anche i bambini quando sono piccoli che cercano attenzione è una cosa che comunque abbiamo innata lo facciamo inconsciamente tante di queste cose la realtà è che però ci sono tutti grandi professoronio che si definiscono tali che su ste cazzo di cose ci credono cioè sui cinque sui misteri di fatima ci credono e quello il danno per me sta lì però ecco volevo soltanto sapere da una persona che stimo e che voglio dire ha molta più esperienza molta più professionalità di me volevo togliermi questo cruccio ecco l'hai detto tu e questa cosa rimarrà anche sul mio canale quindi non più soltanto sul tuo non so se questa cosa è andata così allora tu hai detto che fai sei un amante della ritrattistica anche io devo dire la verità è una cosa che amo folle mente però noi parliamo di street fotografi prevalentemente io l'unico rapporto lato street fotografi ha fatto danni metto subito le mani avanti ecco e io proprio a quello volevo volevo andare a parare non è prima di tutto voglio sapere da te sì che cos'è per te la street fotografi perché mi interessa un parere di chi non dice sono uno street photographer perché io sono uno street photographer e io ho dato sempre la mia definizione tu non non dici mai che fai street che sei uno streeters eccetera però vorrei sapere da te secondo che cos'è la street fotografi a parte che non ti rispondo secondo me ma ti rispondo per come l'ho studiato allora metto inserutto una piccola parentesi davanti una delle critiche anzi due delle critiche più importanti che ho avuto il video in cui gli andavo a ragionare sulle foto fatte di street photography di utobi le critiche principali erano una se non sei uno street photographer non puoi parlare street photography e questa per me è la seconda volta dico una stronzata immane come dire a sgarbi famoso critico d'arte se tu non hai fatto mai un affresco non puoi parlare a freschi prima stronzata seconda stronzata a la fotografia non deve essere rinchiusa dentro dei generi che potrebbe essere parzialmente vera ma falsa perché se uno mette sul titolo io vado a fare street photography ha eccitato un genere quindi a un certo punto in un genere entri tolta queste due premesse io racconto e anche nel video quella che la mia visione street fotografi ma come l'ho studiata possa averlo studiata su con dei docenti con dei libri sbagliati però si fotografi è un genere in cui c'è una forte componente narrativa quindi si si chiama street fotografi perché andando per strada andando in giro ma può succedere anche dentro casa di fare street photography ma fuori casa mario ha più possibilità di vedere qualcosa che succeda e deve succedere qualcosa ma può essere veramente anche una cosa senza nessuna essere evidente un abbinamento di linee un abbinamento di colori un avvenimento delle persone che fanno succedere qualcosa tutto lì quindi quando vedo invece delle foto che altri vanno a mettere su un altro genere urban photography che dice ok che vuol dire fotografia urbana in città ma sono tutti nuovi peccato le street photography io l'ho sempre vista e studiata come succede qualcosa è morto da poco il little year with uno classico tipo quello con i cani in cui si vedevano questo cane piccolo queste gambe di un lungo cane e gli stivali di una donna per me quella è la street photography poi qualcuno dice a ma realtà è il nome del genere è stato coniato dopo delle foto dei grandi fotografi ok capito ragazzi però che andiamo a fare discussione sul linguaggio sulla storia a me quello che è dispiaciuto di utobi e che appunto lui ha buttato là un genere come se fosse un genere definito in realtà queste discussioni su cos'è la street photography io l'ho visto anche quelli che dicono cos'è meglio l'analogico il digitale quindi albori della foto digitale o è meglio il cd o il vinile parlando di audio sono discussioni che infiammano perché sono ovviamente cose non ben delineate io tornerei su una morale passiamo a Tullio poi dirito la parola ragazzi di vederti devi a fare la foto perché la cosa più importante la fotografia non è il genere ma la gratifica personale dicevo all'inizio questa chiarata io facendo ritratti sono felice quella cosa c'è qualsiasi cosa che fai ti metti a suonare la batteria la chitarra un giro in moto che sia una bella sportiva una casta un paccioccusa l'importante essere felici e anche lì rientra la fotografia allora io anche qui dovrei fare dovrei dire 90 minuti di applausi ce l'ho da qualche parte pure il tastino per mettere gli applausi finti non so se li preferisci live la realtà su questa cosa e ci siamo arrivati devo dire faccio io un attimo una precisazione mi ha fatto molto piacere che tu abbia tirato in ballo quel video perché questo denota una cosa che io ho sempre visto in te che si chiama onestà intellettuale e tu adesso in realtà l'hai dimostrato non soltanto perché hai tirato fuori questa cosa che come hai detto umilmente ti ha creato un po di casini da una parte dall'altra devo ammettere anche che ne hai parlato e continui a parlarne così come dici guarda e come me l'hanno insegnata e come io l'ho imparata ma non è un vangelo no si è stato molto onesto ed umile in questo e ripeto da personaggi autorevoli su youtube e non solo è una dote rara questa e questa è la prima parte diciamo della mia precisazione la seconda parte della mia precisazione che forse ancora più importante è che hai detto una sacrosanta verità questa si è vangelo ed è quello che io sto continuando a dire sempre dalla prima volta che ho aperto questo benedetto canale e cioè conta il perché fai la fotografia il genere vogliamo trovarcelo noi per forza e se mi permetti adesso a me una cosa perché ci vogliamo definire fighetti perché la street photography è diventata un circolo di fighetti e quindi poi arrivano lì e dicono i cinque modi per la sezione aurea perché oddio lì il bianco e nero emozionale tutte queste stronzate qua dimenticano però quello che è la base che tu hai detto che anche per me è fondamentale forse perché io sono un umanista di studi o forse perché sono una persona molto appassionata più alle persone ancora più quindi più ai fotografi ancora prima che alla fotografia la parte narrativa nella parte narrativa io ci vedo il perché devo scattare una fotografia spesso la narrazione sono di quelli che sostiene e nello scatto e nell'atto che mi porta a scattare e nel motivo che mi porta a scattare la fotografia che c'è la narrazione indipendentemente poi che dall'altra parte ci siano gambe alte un cane due cani o soltanto ombre eccetera eccetera ma è il perché e questa cosa tu l'hai detta in realtà molto bene perché non ne fai un manifesto ed è questa la cosa in realtà scusami se ti sto rubando magari qualche qualche minuto perché l'intervista è a te però la cosa bella di quello che hai detto tu e che non ne hai fatto veramente un manifesto il manifesto te lo faccio io e il perché scatti una fotografia che ti porta a dire faccio questo faccio quell'altro non è in realtà le famose tecniche i segreti o o i vincoli i vincoli dei c'è dei circoli dei fighetti che si sono va bene io ogni tanto sbrocco pure io già allora ti chiedo scusa poi questo sbroccato quello che ho visto molto molto di peggio sì 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 poi quel video a me ha fatto ridere molto perché tornando a quel video ovviamente io ma seguendoti da tanto ti seguo l'ho sempre detto alle persone agli amici quando anche gli ho detto che ci saremmo fatti questa chiacchierata e che gentilmente mi avevi dato insomma questa opportunità di registrare questa questa intervista che ti seguo da quando ancora io per me la fotografia era qualcosa da guardare soltanto no e con cui divertirmi veramente con con le punte scatta ti ho conosciuto da audiofilo prima di tutto non mi ricordo nemmeno qual era un amplificatore a valvole minuscolo una cosa prodottino cinese che tu avevi incensato come prodotto come prodotto eccezionale e devo dire la verità che tutte le cose che tu dici poi anche tecnicamente devo riconoscere che sono vere però quel video lì a me ha fatto molto divertire perché in realtà tu almeno per come non so se c'entra nel discorso però per come l'ho visto io non è stato un attacco a io toby ma alla fine è stato più che altro i complimenti sinceri appunto appunto in realtà è stata un voler ecco strappare un manifesto perché è stato io toby in quella circostanza che aveva parlato della street facendone un manifesto con il piede che doveva essere in alto se non era street se vogliamo i paletti un po no le aveva messi lui e tu in quel video e vi detto guarda questi non c'entrano con la street ma ti diciamo una cosa in più quel video poi era partito perché io stavo in un gruppo di vari youtuber che parlano di fotografia e fu simone tarca non so se conosci che adesso fa molti video ma anche lui è un youtuber di fotografia che proprio segnala dice ma guarda per una volta tanto che un grande cioè uno che ha davvero un seguito di centinaia di migliaia persone parla di fotografia e ricordiamo che purtroppo questo è successo due anni fa ma comunque sono tanti anni che la fotografia sta sempre diventando una nicchia quindi che peccato che uno parla di fotografia quindi lo fa conoscere a un pubblico quanto mai ampio però ne parla sbagliando ovviamente sbagliando dal nostro punto di vista che come dicevamo prima appunto non siamo gli unici degni di annunciare l'unica verità nella fotografia perché non esiste appunto questa unica verità però c'era come un che peccato proviamo a dire anche la nostra infatti non sono stato l'unico a fare un video parlavamo del video di youtube io ho avuto la fortuna gli algoritmi di youtube mi hanno assistito che ha avuto un boom mostruoso che neanche io mi aspettavo da perché poi ci sono state tanti video sul tuo video che vabbè ma c'era un video prima del mio e dopo anche video sul mio video si ho buttato senza volere secchiate di benzina sul fuoco da però ti dico la verità io l'ho vissuta in maniera veramente molto differente perché come hai detto tu di simone tarca no che il fatto è proprio quello io quando ho aperto questo canale youtube mi sono assunto la responsabilità di fare informazione e per farla bisogna stare attenti non soltanto a quello che si dice ma anche a quello che la gente percepisce da quello che stiamo dicendo io sono convinto che siamo responsabili anche di quello che facciamo capire alle persone e ho capito quel messaggio che tu lanciasti su quel video perché youtube aveva una grande responsabilità e ovviamente non essendo lui un fotografo lo ha fatto senza assolutamente senza nessuna malizia però in realtà ha accorso il rischio di essere frainteso e il tuo video era stato un voler puntualizzare gioco guarda aspetta queste non sono regole non sono ecco i misteri di fatima e tutt'altra cosa va bene però la file a street tu ogni tanto no mai no per me la fotografia quando è fotografia per me gratificanti e rende felice e fotografia di ritratto o ancora meglio a me piace tantissimo la stage di fotografi quella in cui c'è una messa in scena per me è proprio gratificante un vero piacere quando mi viene un'idea folle in testa voglio fotografare una persona che ha questo impatto anche cose strane lo voglio gotico lo voglio fantasy dicendo e poi dopo riesce ad arrivare alla foto finita che è la materializzazione visiva di quella fantasia oppure banalmente la facciamo tutti la fotografia di ricordo che secondo me la forma più dignitosa umana di fotografia cioè faccio foto per ricordarmi mia moglie mia figlia gli amici cosa del genere uscire prendo la macchina fotografica vado a fare una passeggiata e aspetto di trovare qualcosa da narrare che appunto è la mia visione della street photography no proprio no ho fatto in mia nella mia vita penso proprio due foto di street photography ma sono cose che stavo in vacanza ho notato cose particolari lo fotografate e poi pubblicati su foto for you che è un forum su cui letteralmente sono conosciuto sia come fotografo sia anche come membro dello staff e le pubblicate finito lì quindi ne ho fatti mia vita quante foto stiti fotografi due stop non mi gratifico quindi tre discorsi prima la fotografia deve essere qualcosa che c'è la parte di professione ovvio quello che fai per te stesso ti deve rendere felice quindi c'è chi è felice di alzarsi non so a tre il mattino andare a fare l'alba in mezzo alle piane di castelluccio mentre c'è il ghiaccio quindi ci stanno meno 15 gradi ci sono persone che invece cercano di mettere le linee di palazzi finché non sono perfetti ognuno ha il suo genere ognuno ha quello che lo rende felice allora che cazzo di intervista da fare io non lo so no io scherzo io scherzo perché ti vedo a me interessa mi interessa la fotografia sono un amante della fotografia e come ti dicevo ormai lo sanno tutti quelli che mi seguono io sono dalla parte dei fotografi a me interessano più i fotografi che non quello che stanno fotografando è quindi ti dico in tutta onestà che sì io faccio mi definisco street photographer ma perché quando ecco un po un genere non so un amante nemmeno io dei generi no però è come quando diciamo che suoni faccio rock oppure no io faccio indie un'idea un'idea di genere insomma dobbiamo comunque darcelano perché poi è quella che ci rispecchia ciò non toglie che ci sono poi tanti modi per fare rock tanti modi per fare indie e tanti modi per fare anche fotografia di strada però visto che tu sei un appassionato di ritratti e anche della fotografia posata ecco diciamo così ai dei segreti per interagire con i soggetti mi piace questa parola segreti l'abbiamo lanciata abbiamo già detto che se avete non esistono allora il fotografo io conosciuto un fotografo che mi ha influenzato molto siamo anche amici che Enrico Chico De Luigi fotografo di Rimini e andai a fare nel 2012 caspita sono già passati 11 sono 12 anni il suo si chiamava no panic workshop cioè il workshop in cui non deve avere panico e ti metteva in varie situazioni che ti spingeva invece proprio a trovarti in difficoltà per esempio una parte della sessione fotografica in cui tu hai ribendato quindi tu non vedevi nulla macchina in automatico andavi in giro cercando di orientarti con il tatto toccavi le persone con l'udito i rumori o con altri stimoli per dire lui ogni tanto ti infilava delle cose in bocca non capite mano e tipo ti metteva un gambo di sedano un gambo di carota e tu rimarivi spaventato quindi c'era tutta una stimolazione sensoriale per farti appunto avvicinare alle cose e capire fa paura ma non è vero questo per dire che nel ritratto è questo mare il problema molti di noi hanno delle paure che dovremmo riuscire a tirare fuori e superare ed è una cosa che forse ma neanche fotografia proprio un discorso umano prima hai fatto il discorso di gil marketing con le donne e sì molte persone sono timide non riescono avvicinarsi una donna molte persone vanno un colloquio di lavoro e si trovano difficoltà molte persone quando si trovano in fronte a qualcosa di nuovo sbattono probabilmente il sereto per me in relazione con le persone ed è banale sto dicendo proprio la banalità del lunedì sera anche se voi lo vedrete una mattina e che più state con le persone è più facile stare con le persone e penso che valga poi alla fine altra sede colcinella in qualsiasi genere se vi piace il paesaggio non andate in un posto andate in mille posti se vi piace fotografare architettura non fermate il primo palazzo fatene mille così si allargono le vostre esperienze quello che è tutto il vostro insomma bagaglio di culture che poi diventa l'istinto che diciamo prima cioè siccome questa situazione l'ho già affrontata ogni volta cambia perché le persone ognuno è differente ma più persone hai affrontato prima e più sei in relax a tuo agio meno paure da buttare giù di fronte alla nuova persona quindi prima è questo l'esperienza banalità ma non è una banalità non è una banalità perché purtroppo visto che viviamo in un mondo fatto sempre più di marketing forse dovremmo iniziare a fermarci un po più sulle banalità quelle che tu chiami banalità perché sono veramente le cose importanti perché purtroppo viviamo in un mondo parlando di fotografie dove ci sentiamo dire spesso questo è banale quest'altro banale eccetera eccetera senti un po io tu hai fatto questo hai creato questo contest questo concorso molto bello di unendo due tue passioni la fotografia e il rock io ti ho scritto qualche giorno fa dicendo di che non ho partecipato a quel concorso perché avrei voluto parteciparci ma per il piacere di partecipare a una cosa che per me è bellissima che dovrebbero fare in tanti ma che in realtà non fa nessuno l'hai fatto tu e è coinciso con una cosa che ho fatto io non come concorso ancora ma ho fatto come una mostra a cielo aperto per tutti quanti i fotografi della mia community mostra a cielo aperto in cui hanno partecipato 107 fotografi abbiamo 200 fotografie attaccate sul corso principale un delirio ora tu sai benissimo cosa sto dicendo e quindi non sono riuscito a partecipare non avuto veramente proprio testa in modo per per scegliere le fotografie eccetera però ti chiedo che cosa ti ha spinto a esattamente unire queste due passioni fotografia e musica e soprattutto nel condividerle queste due passioni coinvolgere fisicamente le persone quindi riferito da sempre concorso si si riferito al concorso perché c'è una cosa gianluca guarda che in realtà in questa cosa che tu hai fatto è una cosa che ha mosso me quando quando ho aperto questo canale e ho dato vita alla community di f4 e c'è quello in realtà di creare una un rapporto con la community che non fosse soltanto quello di dare ma anche anche di ricevere e io questa cosa l'ho vista ecco perché mi è dispiaciuto non partecipare a questo tuo contest ma cos'è che ti ha spinto oggi a farlo esattamente allora anche qui piccola premessa essendo ritrattista l'ho detto più volte essendo che mi piacciono le persone a me la cosa che piace ad esempio di youtube ho fatto anche adesso una live per festeggiare i 77.777 mania per il numero le amicizie cioè il fatto che oggi sto chiacchierando con te Tullio con la tua community è bello appunto relazioni con le persone quindi sempre questa è una cosa che mi ha sempre spinto e continua a spingere il mio canale io penso di essere quello che nel suo canale tu mi stai superando secondo me però ha fatto più video con altri io ho fatto anche un esperimento sotto la pandemia che si chiamava siamo unici che era un video insieme a altri 15 youtuber quindi 16 youtuber in un video montato una follia però queste cose a me piacciono e la scintilla comunque è partita da un'azienda penso si possa dire la saldigital che metto c'è Luca perché non fai un evento con delle stampe quindi mi ha dato l'idea all'inizio il progetto poi era fighissimo spero di poterlo fare nel prossimo anno poi l'ho dovuto ridimensionare per varie defezioni c'è stato un bagno di sangue l'organizzazione di questo concorso perché tante persone che dovevano assistermi poi sono scappate via comunque l'inizio deve essere che le persone venivano in finale ma non con le loro foto venivano in finale trovavano un gruppo che suonava dal vivo fotografavano il gruppo che suonava dal vivo e da quel concerto venivano fuori le foto della mostra quindi ancora più viva come cosa poi per vari problemi l'ho dovuto ridimensionare ragazzi scavate dall'archivio e mandatevi una foto però al di là di tutto il sangue ci ho speso il risultato finale l'ho scritto dovunque mi ha davvero ripagato cioè vedere persone vive tangibile che ho potuto abbracciare nel senso letterale alla parola accanto alle loro foto stampate è una dannata fegata quindi davvero contento ma guarda capisco esattamente tutto quello che dici e se vogliamo sono mi lascio prendere da questo tuo entusiasmo che è contagioso ma anche perché uno ti dico già io c'ho una cazzo di fotografia d'archivio mia rock che veramente per me è stupenda cioè uno di quelle fotografie è veramente è proprio bella 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 l'ho scattato a un concerto di Francesco Motta non so se lo conosci è un altro cantautore indie rock italiano molto bravo e in un concerto con tutta quanta la band molto rock si sono concessi dieci minuti finali sai di show sì ovviamente era preparata però insomma hanno fatto un pochettino di show anche come spettacolo e si erano riuniti in una posizione strana poi le luci sul palco hanno fatto ovviamente il resto che mi sono sembrati proprio i clash nella copertina di london calling no? cioè per esempio quello scatto lì quello scatto lì fatto rubato in quel momento poi tant'è che Francesco Motta me lo chiese con lo scatto poi glielo regalai perché insomma veramente molto molto evocativo e ti volevo mandare quello poi in realtà nella ricerca degli altri non ho avuto il tempo ma quando mi parli di questa cosa adesso ti dirò a te farò questa confidenza che in realtà me la sono tenuta come segreto ma ormai siamo arrivati questo fine settimana ci sarà l'evento non conclusivo ma insomma l'evento centrale di questa mostra a cielo aperto che ho fatto come F4 insieme ai miei compagni diciamo del collettivo di F4 che non mi hanno abbandonato per l'occasione forse mi abbandoneranno dopo perché mi hanno già detto che sono abbastanza petante però ancora ce li ho e mi stanno aiutando ed è quello di... che un po' rispecchia quello che volevi fare tu no? perché in realtà noi daremo un tema questo fine settimana ai fotografi che verranno per fotografare ok e tutti quanti dovremo fotografare in questo weekend su quel tema avremo un tema e tutti quanti dobbiamo fare la stessa cosa e in realtà a fine evento quello che voglio fare io è proiettare in strada le fotografie che abbiamo preso dalla strada sia per creare ecco coinvolgimento anche per utilizzare una cosa di cui io mi faccio promotore che è l'attenzione selettiva anche per fare un po' quella sorta di workshop che tu hai vissuto no? contro il panico eccetera eccetera in realtà io non faccio altro che continuare a spingere a capire che ci sono tanti altri sensi oltre alla vista e forse la vista è l'ultimo dei sensi che dovremmo utilizzare per creare veramente qualcosa di bello e poi anche per demonizzare un po' tutto quello che ad oggi c'è contro la fotografia no? in strada privacy contro privacy eccetera eccetera nel rispetto degli altri penso che non si faccia niente di male e questa quindi era l'idea e mi pare di capire insomma che questa passione traspare cioè non sei uno di quelli che vuole lasciare le sue passioni al di qua dello schermo se no non avrebbe senso essere su youtube cioè anche tu tu le fai trasparire ed è una cosa buona e giusta parole bibliche io ti ringrazio che lo dici di me io lo dico di te questa cosa ripeto l'hai dimostrata lo posso dire di Fabio Porta lo posso dire di Simone lo posso dire anche di qualcun altro ma in realtà sai benissimo che non tutti la pensano così quindi speriamo che questo sia un piccolo spot perché anche gli altri imparino a fare qualcosa per le proprie community tu che dici? quello è il bello cioè youtube è nato per questo molta gente se lo dimentica pensa che Mare sia un posto in cui avere successo ma in realtà no youtube è nato come il tuo tubo catodico dove puoi fare il tuo programma e che vuol dire fare il tuo programma? fare qualcosa che ti rende felice quindi sì molte persone lo fanno di lavoro io no faccio tutt'altro di lavoro quindi mi concedo qui di divertirmi a fare cacchiatelle come appunto può essere una cosa del genere ma questo è che ti serve mi diverto quello è l'importante dimmi questa è una cosa non c'entro un cazzo con le interviste eccetera eccetera ma ti sta divertendo pure con la nuova action cam della lista 360 sì ti sta divertendo perché sto vedendo insomma non ti ho mai visto a livello di giocattoli non mi faccio mai mancare nulla DJI no è che cosa è che non ti ho mai visto in realtà ecco fare tanto con una stessa cosa te lo sto vedendo fare adesso e quindi ho detto sicuramente gli è piaciuto assai insomma si ci sta divertendo siamo anche onesti perché sarebbe il salito di Puginella due video dei tre praticamente uno deve uscire uscirà domani con la lista 360 sono sponsorizzati la macchina è buona però siamo onesti io lo metto poi sempre la scritta sui miei video quando è un video sponsorizzato c'è scritto sì ma si vede quando fai qualcosa che ti piace ecco questa cosa qua va detta posso dire che si vede qualcosa che mi piace infatti con alcune aziende sono finito in difficoltà perché io facendo le pacelline alcune aziende non sono state contenti delle pacelline o dei titoli e altre cose quindi cerco sempre di essere super partes permettimi la frase latina cioè al di sopra delle parti di essere sempre onesto obiettivo questo qualche volta sicuramente mi fa amare del pubblico odiare le aziende però fa parte del gioco ma guarda a proposito di questo ti dico che perché se sentite i rumori di sottofondo anche tu Gianluca è il cane che russa ma russa proprio è una cosa guarda incredibile è un motivo per cui ti dico che devo cambiare questo accrocchio perché mi serve qualcosa che insoli perché se no lo devo buttare fuori di casa lo devo abbandonare e non posso nemmeno farlo perché c'è il microchip e se lo abbandono me lo riportano capito e quindi sono costretto a tenermelo in casa questo vuol dire che ha una bella voce lo rilassa e quindi lui dorme la bellezza la bellezza diciamo anche questo piccolo inframezzo per noi che in questo momento stiamo facendo ovviamente su piani differenti ma siamo dei content creator e facciamo informazione è più facile fare informazione scusami non è una critica a livello di argomenti di temi da affrontare è più facile farla facendo recensioni diciamo così e infatti è quello che fanno tutti la difficoltà e questo è molto difficile è saperle fare poi le recensioni e mantenere l'onestà ed è una cosa che io per esempio ho riconosciuto e nel motivo per cui non è un caso guarda che abbia chiesto di parlare con Fabio Porta l'ho chiesto a te l'ho chiesto a Simone cioè e qualcun altro sicuramente lo farò anche perché altre persone che stimo ma perché poi si capisce cioè tu sei un Nikonista lo hai sempre detto lo dici tutte le volte sei un appassionato di Nikon ma sei anche uno di quelli che dice che Nikon fino a mo' diciamo fino a un paio di anni fa si è ripresa dal Z9 in poi ecco si è ripresa dopo però ti capisco però sei uno scusami ti interrompo hai toccato un tasto giusto ti dico questo molti criticano successo anche a me anche a Fabio Porta e a Simone cioè sotto i nostri video dicendo ah voi parlate soltanto di tecnica o meglio di attrezzatura dovreste parlare anche di cultura e linguaggio fotografico io quando ho fatto il Master Rock Photographer ho fatto poi una live in cui sono andato a commentare le foto quindi parlando proprio di linguaggio tutte le foto di tutti i partecipanti il primo e l'ultimo live che è andata benino diciamo 2000 visualizzazioni la settimana dopo faccio una live a mezzanotte parlando delle offerte su Amazon quindi un video spudoratamente commerciale c'era il triplo di pubblico e durante la live qualche volta ho detto certo ragazzi che vi lamentate ma non era quello il pubblico presente che faccio poco ovviamente discorsi sul linguaggio fotografico quando faccio un video in cui parlo soltanto di come spendere soldi quindi se vogliamo anche un po' triste invece lì la gente c'è sempre quindi molte persone viene a criticarci che dicendo voi parlate troppo attrezzatura però effettivamente se tu vuoi continuare a avere un pubblico questo pubblico dovrebbe crescere purtroppo parlare attrezzatura in Italia è triste ma funziona poi per me è meno triste perché io sono un dannato nerd quindi lo ammetto e provare il miliardesimo giocattolo mi diverte però questo purtroppo è una mala realtà ma è una mala realtà anche il fatto che la gente si lamenta a prescindere perché fai qualcosa in generale ha soltanto voglia di dire qualcosa contro però quello che fa la differenza tra te e Fabio cioè che differisce te e Fabio Simone e invece tutti gli altri che fanno recensioni soltanto perché è più facile avere sempre un argomento da trattare che comunque va in trend e che voi non nascondete anche il vostro parere personale il vostro giudizio non è un caso guarda manca farlo apposta che tu sei un iconista hai parlato male di Nikon fino alla Z9 nel senso che in realtà non era più al passo rispetto alle concorrenti ma sei uno che si è innamorato di Fuji e ne ha parlato sempre al di là degli aspetti tecnici molto oggettivi ma ne ha sempre parlato con un entusiasmo ecco diciamo così del bambino di chi è innamorato di quella filosofia di Fuji mentre invece Simone Cioè che ne ha parlato sempre in maniera entusiastica da un punto di vista tecnico per tutte quante le caratteristiche eccetera ma è uno che non nasconde mai che gli fanno schifo voglio dire questo è anche quello che poi fa la differenza io spero che nessuno decida mai di comprare o non comprare una macchina fotografica solo perché l'ho detto io non ha senso cioè qualsiasi cosa uno sceglierebbe sceglierla in base ai suoi gusti dico sempre ragazzi le macchine fotografici stiamo parlando forse un po' troppo di tecnica e di attrezzatura sul tuo canale Tullio comunque ragazzi siete comprati una macchina andate in un negozio e prendetela in mano e fateci almeno dieci foto è una cosa che devi tenere in mano e appoggiare la faccia per dire io ho un naso che ne porterei già questo a me mi fa decidere tra una macchina e una macchina no quindi non potete però decidere in base al naso di Gianluca se prendere la macchina e la macchina B decidetela in base al vostro naso la vostra mano i vostri gusti vi dicendo ok visto che abbiamo parlato troppo di attrezzatura fotografica ma in realtà no perché non ne parlo mai e mi hanno rimproverato anche questo che non parlo mai di attrezzatura fotografica mi interessa veramente molto poco c'è però una cosa che ritornando al discorso di musica però hai fatto prima un accenno a Basic Instinct eccetera quindi sei presumo tu sei anche un appassionato di cinema quanto tanto tanto la musica e il cinema influiscono nel tuo modo di fare fotografia fossero anche soltanto i ritratti allora una volta abbiamo fatto una live insieme a altri amici conosciuti sempre su YouTube Maurizio Eriana di Audiofilando e Johnny Veneticamente parlando della strettissima relazione che c'è tra fotografia e musica sia da cose banali che sono le copertine dei dischi in cui spesso appunto ci sono andate a finire delle fotografie spettacolari sia per il fatto che io ci ho fatto un video ad hoc appunto che si è fatto che per molte persone ma tantissime persone la musica è la colonna sonora di qualcosa fai io sono tornato a volere un impianto i fai sulla mia scrivania proprio quando scrivevo di fotografia che per me scrivere oppure fare editing di fotografie con la musica giusta in sottofondo è una cosa che mi aiuta a farlo meglio il cinema è l'estremizzazione perché nel cinema ci sono appunto quelle due componenti che sono i due argomenti in mio canale YouTube fotografia e audio perché Google Cinema sono 24 fotografie al secondo tra l'altra c'è sempre appunto il direttore della fotografia che collabora con tutte le altre figure e c'è chi scrive la colonna sonora chi fa la sonorizzazione quindi se ti piace la fotografia e ti piace l'audio è per me umanamente impossibile che non ti piaccia il cinema visto che hai parlato in questo momento anche di editing sì mi rifaccio lì perché è una curiosità che mi è venuta adesso chiacchierando con te no che cosa ti fa scattare quella molla tra le fotografie che scatti quelle che poi in realtà pubblichi e quelle che invece tieni per te qual è la molla che ti fa scegliere quale foto è per gli altri allora questa Tulli è una domanda tosta che poi in realtà l'ho scritto anche sul mio libro il saper selezionare la foto è la dote secondo me più preziosa di un fotografo cioè capire tra tutte le foto che ha scattato che siano si dice una volta una buona su 36 quando si è bella da un rollino o una buona su 1000 adesso col digitale che molti hanno lo scatto compulsivo è difficilissimo cioè riuscire a capire il titolo mio quello sai e sai perché le tue foto vanno schifo e un certo senso è proprio io ho fatto 36 foto 35 non è che fanno schifo che è una parola messa lì per provocare per attreare l'attenzione è che non vanno tanto bene quell'una e non è una molla semplice ovviamente quando tu fotografi per te stesso la molla ovviamente diciamo prima il tuo istinto cioè tu senti che quella la foto che volevi io ti raccontavo prima che a me piace molto la stage di fotografi quindi mari io nella mia mente avevo quell'immagine cerco di raggiungerla a un certo punto ecco è lei mentre è diverso sta facendo un lavoro parliamo anche di fotografia professionale tu devi avere la capacità professionale quello rende per me il vero fotografo professionista il cliente ti chiede questo e tu dici questo è quello che risponde con la tua autorealità che potrebbe essere dire guarda il cliente mi ha chiesto questo io gli do questo l'inverso perché io sono capace di capire è questo quello giusto per raggiungere il risultato vendere una borsetta quello mi chiede il cliente e non è una molla lì davvero è per me il lavoro più difficile tu puoi essere bravissimo come fotografo per cogliere la luce l'inquadratura mettere a tuo agio il soggetto quello che vuoi ma se poi alla fine non sei capace di scegliere la giusta foto da utilizzare qualunque sia il suo scopo tutto quello prima non è servito a nulla per me è la cosa più delicata e difficile per ogni fotografo la selezione e anche qua ci sono altri 90 minuti di applausi ai sappio e siamo a 180 se vuoi aggiungo in post non ci sono problemi senti ma visto che sei uno di quelli che ribadisce cioè che gli piace molto la fotografia staged come ti come rispondi tu a quello che viene definito blocco creativo che ci sono adesso ho sentito il cane anch'io che è rompa ti chiedo scusa guarda mi imbarazza questa cosa è più naturale è più vero non è una chiacchierata così fatta in uno studio televisivo ti dicevo la molla creativa allora io non ce l'ho mai avuta o meglio il blocco creativo io sempre per come sono io iperattivo non ce l'ho prima nei miei problemi io sono un'anziosi iperattivo se devo mettere a nudo i miei problemi proprio essendo iperattivo io ho idee per fare video da qui fino a febbraio senza considerare quando usciranno le nuove macchine fotografiche farò dei video sopra quindi per me non è mai successo io uno dei miei rimpianti che sto invecchiando ho anche alcuni problemi di salute che Mare mi segue è più stretto lo sa e un po' mi spaventa questo cioè non so se riuscirò a fare nella mia vita tutto quello che vorrei fare il mio essere interessato appunto alla fotografia all'audio al motociclismo al modellismo al cinema io voglio suonare io voglio andare ai concerti è perché la vita è bella che sembra il film di Benigni citando appunto il cinema ma la vita ci dà un mare di possibilità che il vero peccato è che comunque non riusciamo mai ad approfittare di tutte queste possibilità e poi Mare c'è il lavoro gli impegni devi stare dietro alla famiglia i genitori che si invecchiano vi dicendo quindi so che molte persone parlano del blocco dello scrittore del blocco insomma creativo purtroppo non fa parte di me stesso non penso non mi succederà mai almeno il giorno in cui smetto e guarda io la penso come te non sono una persona ansiosa fortunatamente tra tutti i difetti che ho insomma questa non è uno che mi riconosco e poi non è detto neanche che sia un difetto nel senso poi è una caratteristica no 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 ho detto appunto è una caratteristica però nemmeno io ho sofferto mai né in musica né nella scrittura né in fotografia del blocco creativo ma proprio perché come te tu in maniera molto sempre molto più umile stai dicendo no è che io sono una persona comunque dannatamente iperattiva quindi non riuscirei nemmeno a bloccarmi no in realtà io parto invece da un discorso molto più sensibile parte sempre dal perché cioè se il perché vuoi scattare una fotografia vuoi fotografare importante non ti fermi se perché vuoi scrivere è importante non riesci a non scrivere magari non scriverai mai sempre capolavori non scatterai sempre capolavori eccetera eccetera però questo blocco in realtà io non ce lo vedo perché hai detto bene tu prima dobbiamo prima imparare noi e interrogarci su che cosa ci rende felici o no nel fare qualcosa visto che poi queste per noi sono passioni se vogliamo perché poi viviamo ovviamente ovviamente di altro e qua entriamo in una domanda cattivissima la fotografia in questo momento storico dove già la carta stampata è diventata una nicchia dove le fotografie tu sai benissimo che non si stampano più dove siamo abituati a guardare a criticare le fotografie anche imparare di fotografia dai feed con la sindrome dello scroll come la chiamo io eccetera eccetera che cosa prevedi tu per la fotografia nei prossimi anni con l'avvento anche tra l'altro adesso degli A che poi in realtà anche questa cosa qui io l'ho detta l'utilizzo di alcuni strumenti c'era già da un po' e che adesso sono stati sdoganati alla merce di tutti e questo fa sì che tra l'altro adesso vengano abusati questi strumenti che cosa prevedi come la vedi tu la fotografia di qua cinque anni sei anni questa è una cosa che a me interessa molto allora questo è un argomento delicato perché da una parte la fotografia è viva come non mai perché appunto il fatto che tutti abbiano in mano uno smartphone e possano fotografare tu ti ti ma quella non è fotografia vai a generare un ricordo di un evento allora sì è fotografia non magari creata in maniera con una scelta ben precisa ma io a un certo punto mi trovo su un posto bellissimo mia ragazza l'abbraccio alzo il braccio e faccio un selfie comunque c'è il gesto fotografico e hai ottenuto il ricordo che io dicevo prima e lo sottolineo sempre quando posso per me la fotografia realizzata con lo scopo di portarsi a casa un ricordo è la prima ragione in cui poco è nata la fotografia e per me rimarrà sempre quindi da una parte la fotografia è vivissima però la fotografia è intesa come anche uno studio del linguaggio quella invece sta diventando sempre più una nicchia sta morendo come per dire il cellulare come uno dice io ho fatto l'elementare e le medie il cellulare porta tutti a fare la scuola dell'obbligo per raccontare per immagine anche se il grosso del lavoro lo fa l'elettronica del cellulare la cosa triste è però che molte troppe se non butto là il 70% delle persone potrebbe anche essere un 80% si ferma la terza media nella fotografia cioè quello che permette di fare in maniera automatica premo il tasto e via nessuno va a fare gli studi superiori il ginnasi visto che ho fatto il classico il liceo mare università perché quell'interesse è finito è vero che c'è anche un tratto se vogliamo tecnico legato a questo prima quando tu dovevi iniziare a fotografare ma prima parlo mare esagero 100 anni fa uno ti dovevi permettere una macchina forafia che costava una follia due dovevi cominciare a pensare a sviluppo chimici stampa che non era da portare tutti da complesso e quindi era proprio una cosa che tu ci dovevi entrare con una scelta ben precisa ponderata se volevi portare a casa dicevo prima l'obiettivo finale che è un ricordo ma adesso tutto questo processo complesso che comunque già semplificato però la gente non c'entra perché con questo lo scopo del ricordo io ce l'ho e le persone si impigriscono se tu appunto sei appassionato di cinema o a me tu li avrai notato che vai al cinema e il cinema la maggior parte adesso sono semi deserti ma perché il cinema non esiste più no la gente sta più comoda a casa sul divano spara panzati che mette in pausa quanto vuole per andare a fare pipì giustissimo è malissimo tutti noi abbiamo un ostimamente di perizia ma che vuol dire è che quando le persone trovano la soluzione più semplice se vogliamo anche l'hi-fi chi si compra più l'ingombrante i-fi molto meglio uno spicherino bluetooth e passare paura e vai a spiegare che la qualità è inferiore l'impatto emotivo il godimento è inferiore però per l'altro è più comodo e vincere la lotta contro il più facile il più comodo è difficile ovvio che anche lì torniamo al discorso di base se sei felice col cellulare per me è sbagliato e chi aggredisce oh se fai le foto col cellulare non è vera fotografia nel Master Rock Photographer uno dei cinque finalisti le cinque foto erano fatte col cellulare e se lui comunque non l'avesse dichiarato nessuno nessuno l'avrebbe capito nonostante stampe 60x40 una buona fotografia che funziona bene che ottiene un risultato anche se Timio Benedusi non dipende dal mezzo però è vero che questo le persone hanno la pappa pronta comoda qui sarà sempre più difficile che si interessino a fare il passo successivo cioè capire come raccontare meglio per immagini quindi c'è questa parte buona e questa parte meno buona visto che siamo coetanei Gianluca e tu sei una persona rara e poi alla fine dirò anche il perché mi posso permettere io di aggiungere una cosetta a questa cosa che hai detto certo stiamo chiedendo per quello perché che sono d'accordo con te però io faccio un esempio del motivo per cui quando ti dico ti ho detto insomma all'inizio confidandomi che la nascita di questo canale è per i fotografi non per la fotografia parte proprio da lì da motociclista e da persona normale che utilizza la macchina per andare a lavorare e per fare per la maggior parte delle cose avendo pure la famiglia e tutto il resto tu penso essendo anche un po' nerd lo ammetti che avrai un cazzo di navigatore sì in moto non penso che lo usi e invece sì e allora cambio esempio cambio esempio e ti dico di me no no ti dico di me e mi spiego meglio e tutti noi siamo pigri è una cosa naturale fa parte fa parte dell'uomo il nostro cervello se può risparmiare energia lo fa però attenzione quando c'è quella molla che è la passione quel fuoco dentro Bukowski diceva se ti esce fuori come un'eruzione di un vulcano e non ci facciamo prendere dalle comodità io sono di quelli che si fa sempre un viaggio in solitaria in moto ogni anno a parte l'ultimo insomma che come te ho avuto dei problemi di salute però lo faccio e lo faccio senza navigatore perché mi piace ancora i tornanti mi piace fermarmi chiedere scusi ma per andare a prendere il famoso stradario farmi il costruirmi il giro più assurdo per arrivare lì e godermi il paesaggio io la stessa cosa la penso in fotografia così come l'ho pensata anche in musica tutto dipende ecco perché dico sempre che tutto dipende dal perché perché se io voglio diventare un fotografo non mi fermerò al cellulare e non mi fermerò a quello che mi dà già il cellulare come prodotto finito non mi fermerò ai programmini di editing da smartphone per aggiustarmi mettendo i filtri alle fotografie andrò oltre perché ho un'altra ambizione se la mia ambizione come dici tu è quella di portarmi soltanto a casa un ricordo ma va bene che il cellulare faccia tutto per me per me è un ricordo ma non sono quello che sotto il suo profilo instagram scrive fotografer quello triste poi ecco il problema è che purtroppo è del motivo per cui io voglio diffondere un po' di cultura all'interno del canale con la fanzina e tutto il resto per cercare di dare a tutti qua a più persone possibili una la possibilità di avere qualche informazione in più se poi questa ambizione personale cresce questa voglia di andare oltre magari gli diamo lo spazio e gli diamo anche l'opportunità di conoscere qualcosa in più ma se uno vuole fotografare soltanto i gattini per intenderci no visto che oggi gli sticati andrebbero sterminati oggi perché ne parlano tutti quanti male se uno vuole fare soltanto quello ma che ben venga lo faccia col cellulare se come dici tu lo fa stare felice ma quella persona la macchina fotografica non la comprerà mai io sono uno di quelli che riconosce la capacità le capacità dello smartphone ho un iphone 12 pro comunque sicuramente non è l'ultimo ma ha un reparto fotografico comunque già dalla madonna eppure io non scatto fotografie con quello perché per ambizione mia personale ho fatto un passetto in più e questo è giusto una precisazione rispetto a quello che dicevi tu nel senso che è vero che c'è la la voglia di stare comodi tutti e oggi il progresso ci ha portato ad avere già tutto quanto bello e finito ma se siamo mossi da altro scusate interrotto la domanda che poi faccio la conto intervista farei a te per chi non sape trarre risposta come fare in modo che nasca nelle persone la scintilla per entrare davvero nella fotografia e questo è uno dei grandi dubbi perché appunto la persona vuole portarsi a casa ricordo fa la foto col cellulare e stop ti faccio anche un esempio legato a me poi magari vi rispettivi qualcosa per rispondermi per me la scintilla della fotografia è nata perché io ho iniziato lavorando come grafico quindi io impaginavo le foto degli altri quindi ho fatto gli occhi sulle foto degli altri quando ho comprato la prima digitale c'è stato questo prima pellicola facevo un utilizzo saltuario quindi quando vedevo la foto stampata dopo un mese da quando ho fatto lo scatto vatti a ricordare cosa era successo col digitale la vedevo e controllavo subito il risultato e mi chiedevo ma perché fa schifo perché non è bella come quelle foto con cui mi ero abituato a guardare dei fotografi professionisti e lì mi è nata la scintilla ad oggi come fai a nascere la scintilla nelle persone per accostarsi alla fotografia il perché ovvero il perché se non ti nasce allora se decidi di scrivere un libro o una poesia soltanto perché vuoi che la mamma la fidanzata l'amico ti dica che sia bellissima lascia stare ti deve nascere da dentro è una cosa prepotente può nascere perché c'hai i cazzi in testa io ho conosciuto conosco persone che la fotografia la intendono come un atto di decompressione personale ne hanno bisogno io ho visto gente che è diventata sta diventando sta continuando a studiare si sta perfezionando da fotografi proprio dalla pandemia in poi da quando la pandemia democraticamente utilizzo questa cosa per evitare che qualcuno mi fraintenda ci ha lasciato tutti quanti in casa ma non tutti quanti gli ambienti domestici erano sani e la fotografia è stata utilizzata per uscire da quei momenti è stato fatto con la macro e oggi si spara contro la macro è stata fatta proprio fotografando il gattino di casa ma serviva era quel perché quella cosa dentro che ti serve a te io continuo a dire e veramente mi spendo tanto mi sto spendendo tanto con un bagno di sangue per questa community per la fotografia in generale perché veramente serve a noi la fotografia come a noi è servita la musica a me è servita la musica a vent'anni quando io ho rischiato di diventare cieco io ho iniziato a suonare quando io mi sono svegliato la mattina ed ero cieco non mi vedevo più lì la musica per me è stata fondamentale io ho iniziato per me è stato fondamentale iniziare a scrivere quando io fino a 16 anni non riuscivo a dire mamma in meno di 30 secondi perché io sono balbuziente ecco perché dico il perché io parto dalle persone prima ancora che dalla fotografia io sono convinto ecco perché ti ho fatto tutte queste domande partendo dalla moto la musica l'audiofilia e tutto il resto anche a te perché tu sei una persona rara tu sei una persona sincera e dentro di te non è stato soltanto perché impaginavi le fotografie di altri perché quella cosa a te ti regalava qualcosa e se non ce l'avevi stavi male perché se no non andavi non continuavi non insistevi ti fermavi all'immaginetta che vedevi nel display anche sentire un audio migliore rispetto a un altro è qualcosa che dentro ti fa stare in maniera diversa sono non lo so se fa parte dell'intelligenza emotiva questa ma ci sono tanti colori all'interno di uno stesso aggettivo ci sono tanti modi per descrivere stati d'animo più siamo in grado di descriverli questi colori e questi stati d'animo e più saremo capaci di dare una risposta al nostro perché quindi se chiedi a me perché io scatto fotografie è lo stesso motivo per cui io suonavo scrivevo e scrivo canzoni per cui ho scritto e continuo a scrivere perché senza io esplodo esplodo perché veramente mi hanno salvato la vita è un modo per dire cose che normalmente non riuscirei a dire perché non le digerisco e tu Gianluca che sei una persona dici ansiosa perché sei pignolo eccetera eccetera ma tu veramente mi dai a bere che dentro non ci sono momenti che ti parte la brocca e non stavo a fanculo prendo la macchina fotografica esci fuori e ti fai i due passi e vai a provare un nuovo giocattolino o non ti metti e costruisci quell'obiettivo che hai fatto con la vecchia lente dal microscopio non lo so poi magari sbaglio magari sbaglio però i perché per me importanti sono questi e comunque c'è da dire che ci sono persone che fanno foto dei gattini eccezionali andatevi a guardare Claudia Rocchini micchia ma ci sono ma magari magari si facessero tutto sta lì poi nel nel saperle nel saperle fare le cose senti poi non ti voglio rubare altro tempo ti faccio l'ultima domanda che mi piacerebbe che poi nella risposta tu la rigirassi a tutta quanta la mia community e se vorrai anche alla tua se poi vorrai far girare questo video e cioè qual è stato il consiglio più importante che tu hai ricevuto da fotografo forse tornerei ancora a Enrico da Luigi che mi diceva semplicemente un dagli e bocci che sarebbe un lasciati andare e cerca di essere più spontaneo io quando ho fatto quel workshop che ho citato prima mi ricordo che tornai a casa fecei anche un post sui soggio già ero social non mi ha piaciuto per niente io ho sempre detto la mia opinione mi ero trovato a disagio però mi sono reso conto poi che essere messi a disagio è un ottimo esercizio quindi non ho avuto un consiglio ho avuto una situazione che però mi ha aiutato a sbloccarmi perché appunto anche io ho avuto le mie difficoltà nel passato ero nettamente più timido per me sarebbe stato impossibile quando ero ragazzo tenere una conversazione con qualsiasi bimbo della mia età senza dire mamma mi accompagni a conoscere quel bimbo quindi una persona stra timida con varie insicurezze e crescendo sono cadute ma quello che mi ha fatto crollare Enrico De Luigi che magari mi sta guardando adesso cioè Enrico mi ha davvero svoltato la vita penso che non sarei su YouTube senza il suo aiuto se siete di Rimini andate a conoscerlo quindi Daie Bocci esatto è il consiglio quindi Daie sempre che poi è un detto romano ma anche nelle Marchi si utilizza Allora io adesso veramente ti abbandono nel senso perché mi farebbe veramente piacere continuare ma sei già andato oltre e spiego prima di tutto a tutti quanti il motivo per cui Gianluca Bocci è una persona rara io ho aperto questo canale a febbraio ad oggi ho conosciuto veramente delle persone fantastiche l'ultima della serie è Gianluca ma non per perché lo è meno rispetto a Fabio Porta o a Simone Cioè o a Sara Munari o ad Angelo Ferrillo insomma personaggi tutti autorevoli con cui ho avuto il piacere di parlare e perché non è non è automatico che le persone rispondano a chi non è nessuno e questa cosa dà un significato particolare a tutte quante le cose che voi avete detto che tu Gianluca ha detto stasera che ha detto Simone che ha detto Fabio è un significato molto più importante perché date prova di quello che dite rispondendo a me che non sono ancora nessuno e detto questo io ti verrò a trovare tanto due ore e mezza di macchina ti avvertirò prima mi farebbe piacere insomma venirti a trovare per portarti dei visu le fanzine queste riviste dove ti ripeto se ti piaceranno e ti piacerà l'idea sarebbe bellissimo che tu ogni tanto ci regalassi un articolo e magari quella sarà un'occasione per farci una gita gli street io e te che ne dici te la butti possiamo provare mi insegna possiamo provare vediamo comunque voglio dire due cose uno è strano quando ti dici perché c'è qualcuno che è nessuno è un'atrocità cioè nessuno non è nessuno cioè ognuno di noi è una sua un individuo con una sua storia un suo vissuto che è bello e affascinante conoscere seconda cosa ti voglio fare complimenti Tullio perché tu stai seguendo le orme di un altro youtuber che ti consiglio se riuscirai a raggiungere che è Michael Bertolasi che state portando comunque quella fetta che manca di fotografia su youtube cioè effettivamente io Fabio Simone i ragazzi di Promirless siamo tutti amici tutti ci conosciamo abbiamo comunque un peso un po' troppo sbilanciato verso l'attrezzatura mentre tu nel tuo piccolo mai nessuno comunque piccolo ma poi cresci oppure Michael Bertolasi in maniera enorme con Convivium state facendo una cosa importante che devi bilanciare appunto la possibilità uno che va su youtube e di informarsi su tutto sia sull'attrezzatura ok ma anche soprattutto sul linguaggio fotografico quindi è molto importante quello che fai io veramente ti ringrazio quello che mi hai detto per me è la moneta che mi ripaga più di ogni altra cosa ma ti aggiungo con estrema confidenza che io proprio Michael Bertolasi è stata la prima persona che ho contattato proprio perché è un altro youtuber che seguo anche a lui da tanto da tanto tempo ed è una di quelle persone che in assoluto per me è di grande ispirazione no? anche nelle cose che dice come lo dice poi tra l'altro lui ha un atteggiamento e ha un modo di porsi talmente tanto empatico lontano rispetto al mio che in assoluto è affascinante è molto affascinante Michael è stata proprio la prima persona che io ho chiesto di intervistare ma lui mi rispose di no mi disse no perché io non faccio street photography e nemmeno mi piace e lì ho stretto un pochettino le spalle no? perché poi è stato molto educato molto gentile quindi la mia non è in questo momento una critica o altro però capisco ecco quel discorso di generi è quel discorso di generi Gianluca c'è chi c'è ci sono persone per cui i generi sono come la tifoseria della propria squadra del cuore non si va oltre e persone invece che per me hanno una visione molto molto più ampia e io sono uno di quelli che gli insegnamenti li prende da là perché se io fossi soltanto sapere e parlare con le persone che la pensano come me io sarei rimasto piccolo e ignorante probabilmente a me piace parlare con le persone che la vedono in maniera differente e che fanno altro non è un caso che i miei migliori amici non tifino inter ecco per parlare di squadra no? per dirne una però veramente io non so come ringraziarti Gianluca è stata una chiacchierata stupenda voglio soltanto sperare che abbia registrato sto cazzo di programma perché vedo che c'è si si end broadcast quindi vuol dire che ancora siamo io vedo recording in alto a sinistra quindi si si lo vedo anche io ora vorrei capire il supporto però spero davvero che ti abbia fatto piacere anche a te e che ci rivedremo ci rivedremo presto ho veramente molto piacere di incontrarti ok grazie ancora e ovviamente saluto che è tutta la tua community e ovviamente se ce la fai digli di iscriversi al canale mio mi mancano 15 iscritti per superare la boa dei mille dai un piccolo traguardo che ovviamente per me che ci investo tanto tempo è diventato tutti siamo partiti con zero iscritti tutti assolutamente il primo iscritto è la mamma con il non conto no ok ciao grazie ancora ciao grazie a tutti